buongiorno a tutti gli amici di solare b2b in questa situazione di smarter in europe 2024 qui a monaco chin power presenta in anteprima per la germania i prodotti che in realtà sono già stati lanciati per l'italia nella scorsa edizione di kit a rimini in particolar modo vorremmo focalizzare l'attenzione su quella che è la nuova serie di prodotti per i prodotti ibridi quindi per l'applicazione residenziale sia monofase sia trifase e in particolar modo vorrei concentrare sul nuovo inverter ibrido trifase che sarà disponibile a partire dall'ultimo quarto di quest'anno nelle sue potenze da 8 fino a 20 kilowatt con le batterie associate ad alta tensione che sono batterie componibili da 5 kilowattora ciascuna senza cablaggi quindi praticamente impilabili e con la possibilità di poter colgare ad un singolo inverter fino a 60 kilowattora altro aspetto importante che caratterizza in maniera unica sul mercato il prodotto è la possibilità di poter avere una uscita di backup che gestisce fino a 40 kilowatt di potenza per il singolo inverter oltre la serie ibrida lanciamo sul mercato tedesco il nuovo inverter da 350 kilowatt già certificato per l'italia e adesso disponibile anche per il mercato tedesco ed europeo caratteristica principale oltre ad avere la possibilità di avere 15 canali mppt indipendenti una potenza senza dei rating fino a 45 gradi di temperatura ambiente che è praticamente il massimo livello per il mercato sia gli inverter ibridi sia il l'inverter da 350 kilowatt sono saranno gestiti con la nuova piattaforma di comunicazione matri cloud che è sviluppata e pronta per essere lanciata insieme a prodotti stessi